Nuove positività al coronavirus nel belunese. Nel giro di poche ore sono stati scoperti sei nuovi casi. Due riguardano persone non residenti in provincia che erano state in Sardegna e poi erano venuti in villeggiatura tra le Dolomiti. In entrambi i casi è scattato l'isolamento esteso anche ai familiari. Un altro caso riguarda un polacco rientrato dal proprio paese di origine senza evidenza di contatti stretti. C'è poi un albanese residente in provincia di rientro da una vacanza in Croazia sottoposto a tampone presso il drive-in di Feltre esolato con quarantena di conviventi e contatti. Infine due donne che figurano tra i contatti di casinoti con quarantena per i familiari. Circa il caso dell'infermiera di Feltre è risultata positiva. Tutti i tamponi riferiti ai contatti tra i personali degenti sono risultati negativi. Sono in corso ulteriori tamponi a scopo precauzionale su operatori senza contatto. Prosegue il lavoro presso il trevin di Feltre per i rientri dall'estero con un centinaio di nuovi test effettuati.